Ciao cari amici, la guerra in Ucraina purtroppo continua ad andare avanti, la prospettiva della pace e delle trattative è purtroppo lontana, anche se una buona notizia si può dire è quella che è legata alla proposta di pace cinese che pare che il presidente Zelensky, il presidente ucraino ha detto che vorrebbe incontrare il presidente cinese, il capo cinese Xi Jinping, se questa cosa avverrà non penso che gli americani permetteranno, però se gli americani permetteranno Zelensky per qualche motivo se succederà questo miracolo e i cinesi riusciranno a mettersi in mezzo come una forza pacificatore tra russi e ucraini e statunitensi e dare una svolta a questo processo, una svolta pacifica sarebbe veramente un miracolo, quindi speriamo che i cinesi ce la faranno, io ho grossi dubbi, però vediamo cosa succederà. Intanto noi vediamo che sul campo ci stanno succedendo alcuni cambiamenti, ovvero nonostante la nostra stampa ci raccontava che i russi sono finiti, sono in difficoltà, non hanno munizioni, non hanno niente, combattono con le pale, questi continuano ad andare avanti. Continuano ad andare avanti o nelle zone dove ultimamente le forze ucraine hanno tentato delle controoffensive, noi abbiamo visto che le controoffensive ucraine sono falliti miseramente purtroppo perché i russi si sono difesi, hanno creato una salda difesa dei territori presidiati. E questo ci parla semplicemente del fatto che l'esercito russo sicuramente avrà le sue difficoltà perché qua non è che nessuno dice che l'esercito russo è più forte del mondo, non ha problemi, è tutto perfetto, tutto va bene, assolutamente no. Delle problematiche dell'esercito russo anch'io ho parlato all'inizio di questa guerra, ho dedicato qualche video, ancora quando pubblicavo i video anche su Facebook, per cui si parla sicuramente di un esercito che ha certe difficoltà nella sua strategia, nella sua tattica, però in grande linee anche a livello dei numeri l'esercito russo prevale. Dalla parte sua c'è la matematica semplicemente perché loro sono in grado di schierare più uomini, più risorse, più munizioni e più armi. La questione attorno a Bakhmut, cari amici, che noi abbiamo seguito nei giorni scorsi, io ho già detto diverse volte che Bakhmut cadrà, non sarà nessuna possibilità per l'esercito ucraino di tenerlo troppo a lungo, ma a mio avviso questa situazione si risolverà nei prossimi mesi, sarà una conquista molto lenta perché si tratta di una città altamente difese e spostamenti da una via all'altra a volte necessitano diversi giorni di duri combattimenti, però noi vediamo che soprattutto la compagnia privata militare Wagner e i suoi operatori stanno spingendo molto sulle forze ucraine, noi vediamo che le forze ucraine sono esausti, hanno difficoltà di mantenere questo punto difeso, i morti sono troppi, questo ormai lo affermano anche gli stessi ucraini, hanno bruciato in questa tritta carne, hanno buttato in questa tritta carne di Bakhmut troppa gente e ovviamente stanno seguendo una follia politica del loro presidente Zelensky, perché a livello strategico Bakhmut non rappresenta nessuna importanza, è semplicemente importante per una questione ideologica. Secondo me in quella zona, come aveva già all'epoca spiegato il capo delle forze armate ucraine, Zaluzhny, che una persona, essendo militare, una persona abbastanza preparata, lui ha proposto di abbandonare Bakhmut, spostarsi su una linea di difesa più adatta per consolidare le forze, per raccogliere le forze e preparare l'esercito ucraino per una controffensiva di qualità. Però i suoi consigli non sono stati ascoltati da presidente Zelensky, perché il presidente Zelensky è interessato a livello internazionale di mostrare ogni giorno che l'esercito ucraino combatte, che l'esercito ucraino riesce a sconfiggere i russi e in questo modo, diciamo, riesce a ottenere dall'Occidente i soldi, le armi e gli aiuti e tutto quello che serve al sistema di Zelensky per continuare a vivere, perché ricordiamo che il sistema creato di Zelensky si alimenta soprattutto e unicamente da quello che arriva dall'Occidente, per cui questi signori diventano ricchi grazie a noi occidentali che forniamo a loro gli aiuti, i soldi, le armi e così via. I cittadini ucraini, come abbiamo visto, sono sempre in difficoltà, perché numerosi filmati dimostrano che addirittura gli aiuti umanitari che arrivano da noi, da occidentali, ai cittadini ucraini e che devono essere consegnati gratuitamente alle persone che subiscono la guerra nel loro territorio ogni giorno, invece di essere consegnati gratuitamente vengono venduti da vari personaggi corrotti che sicuramente fanno parte di un'enorme rete di corruzione che oggi rappresenta e contraddistingue il sistema politico ucraino. Per questo motivo Zelensky ha bisogno di Bakhmut, ha bisogno di questa trittacarne, ha bisogno di mostrare al mondo che gli ucraini combattono disperatamente perché per lui è più importante un scenario disperato della guerra per attirare più soldi che una vera e propria strategia di guerra di qualità. Cioè lui deve dimostrare a tutto il mondo che è l'Ucraina, è disperata, è come quei personaggi che a volte potete incontrare nelle grandi città, nelle stazioni che vi chiedono l'elemosina e che quando uno chiede l'elemosina, sorride, sta bene, secondo voi non ha nessun problema. Ovviamente nessuno li dà aiuto perché evidentemente non rappresenta, non sembra una persona bisognosa che ha bisogno di aiuto. Invece se uno arriva, piange disperato, ha vestiti strappati e così via, voi le date i soldi con più facilità perché lui rappresenta anche esteticamente una persona che ha bisogno di aiuto. Questo in grande linea sta facendo Zelensky con il proprio paese. Lui trasforma il proprio paese in una fonte di totale disperazione per mostrarlo all'Occidente in queste condizioni chiedendo in cambio i soldi e le armi. Tra l'altro adesso ultima dichiarazione del presidente Zelensky che lui ha fatto. Chi non l'ha sentita e chi non l'ha seguita vi invito di farlo, io l'ho pubblicata sul mio canale Telegram. Seguite per favore, iscrivetevi al mio canale Telegram, lì troverete diverse notizie e diversi approfondimenti che io non posso pubblicare da altre parti. Lì su questo canale Telegram io ho pubblicato questo video dove Zelensky ha parlato alla propria nazione e ascoltate bene le sue parole, leggete bene la traduzione, lui in certo punto rimprovera l'Occidente per non aver dato abbastanza. È una cosa che mi colpisce è proprio l'arroganza di questo personaggio, a parte che dovrebbe già ringraziare per quello che le hanno dato e deve già dire grazie solo perché ti hanno preso in considerazione. Ma lui parla con un lessico e anche con con un'impostazione del discorso come se tutti gli dovessero qualcosa per forza, come se io sono nato a questo mondo per lavorare e dare una gran parte del mio lavoro, del mio contributo al signor Zelensky e alla sua moglie, al suo sistema corrotto che lui ha creato nel proprio paese. Questa è una cosa veramente allucinante. cioè da occidentale, adesso io non difendo i russi, non mi ne frega niente dei russi che vivono come vogliono, fanno i loro problemi, però quello che mi disturba come occidentale è il fatto di dover dare i miei soldi che io posso spendere per le mie figlie, per il mio paese, per le mie infrastrutture, aggiustare alle strade, i ponti, le gallerie che ci cadono addosso qua in Italia, i ponti cadono addosso, le scuole da noi necessitano di essere aggiustate perché i bambini spesso studiano nelle situazioni veramente disagiati. Abbiamo un sacco di situazioni dove poter investire, i nostri terremotati che aspettano le case da un sacco di tempo, che aspettano aiuto da anni e noi diamo i soldi al signor Zelensky e in tutto questo signor Zelensky non è ancora contento. Lui nel suo video dice, eh ma l'Occidente dovrebbe fare di più, potrebbe fare di più, dovrebbe dare più soldi, più armi, cioè questo è impazzito, ancora più soldi, ancora più armi, ma dove vuoi arrivare? E alla fine comunque in tutta questa situazione, cari amici, di questo personaggio che ci chiede denaro, la questione di Bakhmut rappresenta uno snodo importantissimo politico per Zelensky, perché finché c'è Bakhmut, finché c'è questa piaga aperta dove c'è orrore, sangue, sulla quale si può spicolare, il suo sistema propagandistico lavora e lui continua a fare questa propaganda, e continua a chiedere i soldi. Poi se loro si ritireranno, se gli ucraini si ritirano dall'altra parte del fiume, la guerra prenderà l'aspetto semplicemente di una guerra di posizioni, non c'è più niente da far vedere e da raccontare, non ci sono più scontri atroci, ci saranno semplicemente scambi di artilleria, di fuoco di artilleria, e poi probabilmente arriveranno anche le delegazioni straniere magari a cominciare a invitare due parti di risolvere la questione in maniera pacifica, allora lì per il signor Zelensky arriverà il momento veramente di difficoltà, perché tutto il suo meccanismo di speculazione sulla guerra finirà, perché per queste persone la prospettiva della pace equivale alla fine dei guadagni, e ovviamente nessuno vuole guadagnare, quando tu, come dicono americani, riesci a guadagnare circa 11 milioni di dollari al giorno, quello secondo loro in grande linea il guadagno del signor Zelensky adesso, lui già ha messo da parte, come dicono loro, un miliardo e 200 milioni di dollari nelle banche straniere dall'inizio della guerra, ha un sacco di proprietà, tra quali una grande villa di lusso a Miami, le case in Svizzera, la casa qua, la villa di lusso qua in Italia a Forte dei Marmi, insomma questo personaggio si è arricchito sulla guerra, e ovviamente lui non vuole finire questo arricchimento, lui vuole sempre di più, perché l'unica cosa che noi sappiamo che non ha i limiti è la voglia di arricchimento negli uomini, più soldi le arrivano, più loro vogliono ancora, e questa cosa li distrugge alla fine, questa cosa li porta alla fine verso il decadimento, e più o meno in grande linea noi adesso vediamo stessa situazione a cadere in Ucraina, con Zelensky, quindi Bakhmut sta andando avanti, Zelensky nonostante tutto quello che gli dicono i suoi generali, che sono contrari a questa strategia, lui continua a puntare su Bakhmut, continua a buttare le vite dei suoi soldati a Bakhmut, questi soldati muoiono, i russi lentamente avanzano, non ci sarà nessuna possibilità di fare una contrafensiva di qualità, adesso a loro pare che vogliono fare una specie di controffensiva, dare al fianco del gruppo Wagner nella direzione di Chas of Yarr, Krimenskaya, comunque di questo si parla molto, io non so quanto efficace potrà essere quell'operazione, però da quello che adesso si è visto ad esempio delle controffensive che loro hanno cercato di eseguire nella direzione di Zaporoghie, altro giorno hanno tentato di assaltare le posizioni dei russi con dei gruppi d'attacco composti da carri armati, da fanteria, da blindati leggeri cingolati, noi abbiamo visto un massacro, i russi hanno massacrato, sono morti fino a 80 militari ucraini in una battaglia sola, così dicono i russi, e lo confermono anche gli esperti statunitensi, hanno bruciato diversi blindati, hanno bruciato carri armati, quindi è chiaro che le controffensive contro le posizioni che i russi ormai hanno fortificato sono abbastanza difficili, perché una forza di controffensiva, se deve essere di qualità, deve essere composta da una grande quantità di militari e di mezzi, se si trova sulla posizione che viene attaccata, se si trova, non so, una brigata intera dei militari con, non so, con 30 mezzi, bisogna attaccare con 100 mezzi e con 4 brigate come minimo. Americani, quando offendono per un soldato di difesa, mettono 10 o 9 soldati americani, questa è la strategia di attacco che garantisce la vittoria, quindi servono tanti uomini e tanti mezzi che purtroppo l'Ucraina non dispone. E probabilmente noi sul territorio di Zaporizia adesso vedremo un avanzamento di diversi gruppi tattici, come è già successo, arriveranno a ondate una dietro l'altra, però finché sono così pochi, finché la strategia è questa, loro semplicemente sbatteranno contro la difesa dei russi e perderanno gli uomini, perderanno i mezzi. La stessa cosa io temo che succederà anche a Bakhmut, perché lì non c'è una grande quantità di uomini da parte dell'Ucraina e neanche grande quantità dei mezzi, quei pochi leopard che sono stati donati dall'Occidente non cambieranno sicuramente la situazione strategica. e i russi invece stanno avanzando. I russi hanno dei problemi di carattere politico, ovvero c'è Prigozhin che sta litigando con il Ministero della Difesa. Perché lo fa? Perché Prigozhin vuole essere rifornito dalle munizioni, dalle armi, come vuole lui, invece il Ministero della Difesa dice no, noi ti riforniamo così come riforniamo tutti i riparti, lui dice no, voi siete ladri, siete bugiardi, siete incapaci, non siete veri militari e così via, si crea un battibecco, si odiano tra di loro e adesso ovviamente insieme tutti devono vincere, devono portare avanti la guerra, però tra di loro c'è un diverbio pesantissimo perché Prigozhin è tra l'altro un personaggio che usa anche parole molto pesanti, poco diplomatico e ovviamente questa situazione un po' frena l'avanzata dei russi, però frenare non vuol dire fermare e non vuol dire privarla di qualità, comunque stanno andando avanti, comunque queste munizioni arrivano e l'artilleria funziona, di recente hanno preso un altro pezzo di Bakhmut, abbiamo tutti visto Prigozhin e i suoi militari che si sono fatti la foto nella stessa fabbrica dove ancora a novembre c'è stato il presidente Zelensky, quando lui ha visitato Bakhmut, quando lui ha dichiarato che Bakhmut non cadrà mai, che Bakhmut è una fortezza, che da Bakhmut loro inizieranno a liberare Donbass, insomma lui ha fatto tutta questa ritorica all'interno di questa fabbrica e ecco Prigozhin si è fatto la foto con i suoi militari proprio sul posto da dove Zelensky raccontava tutte queste cose per dire guarda tu hai parlato molto bene ma intanto noi abbiamo conquistato anche questo punto nella tua città e questo ci dimostra cari amici che purtroppo l'esercito ucraino non ce la fa, non ce la fa anche perché comincia a stancarsi l'Occidente. L'opinione pubblica occidentale sta cambiando rapidamente le proprie simpatie a quello che è il meccanismo politico dell'Ucraina perché se prima molti erano ovviamente scandalizzati dal fatto che la Russia ha invaso l'Ucraina, hanno cominciato a sostenere gli ucraini, hanno cominciato a sostenere la guerra, i soldi, hanno cominciato a sostenere il fatto che è necessario dare delle armi, con passare del tempo vedendo che l'Ucraina sta perdendo, che l'Ucraina si è mostrata come un paese corrotto che ha venduto le armi in tutto il mondo, persino in Africa subsacariana, dopo vari scandali della corruzione che arriva dall'interno, dopo tantissime testimonianze sul fatto che in Ucraina non esiste tutta questa democrazia della quale si parlava all'inizio, basta vedere come loro arruolano i cittadini trascinandoli per i capelli e costringendoli ad andare di fronte alla morte con la violenza, di come loro hanno vietato i partiti, di come loro trattano gli oppositori, persone uccise sulla scala di procura generale di Kiev, pestoletate in faccia da agenti segreti dichiarando che loro hanno giustiziato un presunto collaboratore con la Russia e questo accade in un paese senza un processo, senza una sentenza di giudice, cioè in un stile mafioso viene ucciso un rappresentante importante della politica ucraina sulle scale della procura generale, le sparano in faccia e poi dicono tranquillamente ma sì abbiamo liquidato un probabile agente di Putin. Questo dimostra a tutti che l'Ucraina non è quella democrazia per la quale cercavano di spacciare i nostri organi di propaganda atlantista dall'inizio di questa guerra. Questo ovviamente non vuol dire che l'Ucraina è un paese che per questo motivo merita di essere invaso, distrutto o maltrattato da qualcuno. Semplicemente io sto dicendo che molti occidentali si sono accorti che la narrazione creata attorno all'Ucraina è falsa, punto e basta e per questo molti occidentali non vogliono più sostenere l'Ucraina di Zelensky loro non sostengono Putin, non sostengono i russi loro dicono noi ci prendiamo piuttosto la distanza, vogliamo essere neutrali. Questo ad esempio adesso hanno sottolineato anche i cittadini svizzeri durante l'ultima manifestazione avvenuta a Berna dove sono radunati diverse migliaia di persone che hanno chiesto al proprio governo di assumere la posizione di neutralità nei confronti al conflitto ucraino perché loro non vogliono sostenere Zelensky, non vogliono mandare i soldi e le armi all'Ucraina, loro vogliono essere neutrali e quindi ovviamente questa situazione questo cambio dell'atteggiamento delle occidentali che sono sempre più stanchi di sopportare questa guerra loro sono stanchi di vedere come l'economia occidentale sta patendo per colpa di questa guerra tutto questo mette in difficoltà il sistema di Zelensky lui ha bisogno più soldi lui ha bisogno più armi lui ha bisogno più sostegno e lo ha bisogno adesso non domani, non dopodomani le promesse dei suoi colleghi, partner o meglio dire padroni occidentali ormai non lo soddisfano per questo lui anche cambia un po' il suo linguaggio lui comincia ad essere un po' più arrogante ancora più arrogante di prima lui altro giorno quando lui ha detto agli americani che i figli e figlie degli americani dovranno un giorno venire in Ucraina e dovranno combattere e morire per Ucraina questa cosa ha scatenato un'enorme indignità indignazione perdonatemi indignazione tra gli americani che hanno subito risposto a Zelensky c'è stata un'enorme ondata di risposte al suo messaggio io sul mio canale Telegram ho pubblicato due risposte dei due veterani americani delle forze speciali sono soldati americani che hanno risposto in maniera molto dura a Zelensky minacciando anche lui direttamente uno di questi ha detto io da soldato americano verrò in Ucraina però non combattere per i russi io verrò in Ucraina per far fuori te caro Zelensky cioè queste sono cose che in occidente cominciano a immergere perché la durata di questa guerra e l'andamento di questa guerra non sta soddisfandoli occidentali quindi carissimi la situazione in Ucraina in grande linea è questa sul fronte ci sono alcuni tentativi di contrattaccare da parte dell'Ucraina che i russi riescono a contenere i russi avanzano lentamente come sempre prendono piccoli città adesso tipo ieri Wagner ha conquistato un'altra cittadina nei dintorni di Bakhmut prendendo un altro pezzo di posizioni dell'esercito ucraino e io credo che da qui in avanti per diversi mesi la guerra andrà in questo modo non ci saranno grossi spostamenti non ci saranno grosse aperture di fronte non ci saranno grossi operazioni strategiche perché nessuna delle forze è ancora pronta per queste simili operazioni quindi noi osserveremo sempre questo lento andamento di questa terribile fratricida inutile dannosa guerra che tutti noi speriamo che finisca presto perché noi siamo stanchi noi vogliamo la pace noi vogliamo stabilità economica noi vogliamo che i farabutti abbandonano la nostra politica escono fuori dai nostri governi noi vogliamo vivere come una società civile lontana dalle speculazioni di varie oligarchie e questo discorso vale per tutto per tutti i paesi sia per russi che per ucraini che per le occidentali che per gli americani in particolare grazie cari amici per essere stati qui con me scrivetemi quello che pensate nei vostri commenti per favore io quando posso rispondo però cerco di leggere sempre tutti e vi mando un forte abbraccio grazie 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 a tutti.